Inizio ponendovi questa domanda. Quale differenza c'è tra una barca a remi e una barca a vela? È semplice. Nel primo caso occorre usare esclusivamente la forza delle braccia, nel secondo invece è sufficiente spiegare le vele per intercettare il vento. È esattamente così che dovremmo imparare a gestire sia la vita che la fede, non contando solo su noi stessi, ma lasciandoci guidare e sospingere dal vento, dal soffio dello Spirito Santo. Posso fare tutto da me sfinendomi e per di più lamentandomi anche delle difficoltà della vita, oppure posso affidarmi ogni giorno allo Spirito Santo affinché sia Lui a sostenermi. Oggi aggiungo al brano e all'audio anche il contributo dell'arte, l'arte che riesce sempre a connetterci con la parte più profonda e spirituale di noi. E vi invito a guardare questo dipinto del francese Gustave Caillebotte. È stato un grande pittore, profondamente innamorato della luce e dell'umanità. I due temi proprio luce e umanità che hanno caratterizzato i suoi lavori, le sue opere, anche se spesso viene semplicemente incasellato tra gli artisti impressionisti. Caillebotte amava anche praticare la vela, a tal punto che acquistò una barca che chiamò Iris, con la quale ottenne anche numerosi successi nelle regate. Molte delle sue opere rivelano questa sua passione, come nel caso appunto di quella che è l'immagine che vi allego, Barche a vela ad Argentoil, del 1888, esposto presso il Museo d'Orsay di Parigi. Argentoil è una città, è una cittadina, posta sulla riva della Senna, nell'Ottocento era meta per appassionati di barche, per gitanti domenicali e per pittori. Nel quadro in questione vediamo alcune imbarcazioni ormeggiate, altre con le vele spiegate e qualche barca a remi. Lo Spirito Santo di cui oggi, con la solennità di Pentecoste, si celebra la discesa sull'umanità, la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli, sulla Chiesa, su tutta l'umanità, è la terza persona della Trinità fondamentale nel cammino dell'esistenza e della fede. Fondamentale esattamente come lo sono il padre e il figlio. E lo Spirito Santo è la vita, è l'energia di Dio che dobbiamo invocare, è il motore della nostra esistenza. Senza di Lui siamo persone ferme. Restando nel linguaggio velistico, senza lo Spirito Santo siamo come delle barche a vela, senza vento. Restiamo lì, ferme, ormeggiate. Nella prima lettura ci viene narrata la venuta dello Spirito Santo. Nel giorno di Pentecoste è così descritta. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Ecco, l'effetto immediato che si genera con la discesa dello Spirito Santo è che i discepoli iniziano a parlare in differenti lingue, rendendosi comprensibili anche agli stranieri. Ma soprattutto queste immagini del vento è qualcosa che smuove, che smuoverà i discepoli, che farà sì che loro inizino a parlare in tutte le lingue per rendersi comprensibili a tutti. Nel brano di Vangelo poi leggiamo che Gesù manda lo Spirito Santo sugli apostoli che erano chiusi in casa per inviarli ad annunciare il suo messaggio di salvezza e di perdono. Ora, sia nella prima lettura sia che nel Vangelo vediamo due episodi che ci rivelano che lo Spirito Santo è colui che ci fa uscire da noi stessi, da ogni forma di chiusura per aiutarci ad aprirci alla vita, agli altri, all'amore, alla felicità e a Dio naturalmente. Quando ci chiudiamo in noi stessi, istintivamente siamo portati a pensare che dobbiamo cavarcela da soli, confidando soltanto sulle nostre forze, convincendoci che la vita sia come una barca, a remi, dove tutto dipende dalle nostre braccia, dalle nostre forze, dalla nostra volontà. E questo guardate che accade anche in ambito di fede, ci illudiamo che l'itinerario spirituale sia soltanto uno sforzo dove si tratta di conquistare il favore e l'amore di Dio a suon di preghiere, di pratiche religiose, nulla di più falso. C'è un problema in più, e cioè che contando solo su noi stessi, sui nostri mezzi, prima o poi ne avvertiamo assolutamente la limitatezza e l'inadeguatezza, facendoci così prendere dal panico e dallo scoramento. Occorre allora fare un serio cambiamento, abbandonare i remi e spiegare le vele, dando la precedenza alla propulsione del vento, cioè dello Spirito Santo. Con ciò non vuol dire che dobbiamo essere delle persone completamente passive, perché anche sulle imbarcazioni a vela è importante il fattore umano, ma il protagonista è il vento. Senza il vento la barca non va da nessuna parte. Dunque la solennità di Pentecoste ci invita a compiere una vera e propria conversione di mentalità e di atteggiamento di fronte alla vita e alla fede. Impariamo a non contare solo su noi stessi, sulle nostre forze, sulle nostre energie, sui nostri calcoli, sui nostri ragionamenti, sulla nostra volontà, ma impariamo ad invocare ogni giorno e anche più volte al giorno lo Spirito Santo affinché sia il suo soffio, la sua brezza ad ispirarci, a guidarci, a sostenerci, a smuoverci. A colpi di remi non si va lontano e in più si fa una fatica boia, cadendo facilmente poi in quella che è la lamentazione, nello scoraggiamento, mentre navigando in barca a vela dobbiamo soltanto spiegare le vele, accogliere il vento dello Spirito, metterci sì anche il nostro impegno ma nella consapevolezza che è lui il motore dell'esistenza, il motore della fede, l'ispiratore delle nostre manovre, delle nostre scelte, colui che ci sospinge fuori dal porto, fuori da noi stessi per aiutarci ad uscire, ad affacciarci al vasto mare della vita. Buona giornata e buona domenica a tutti, buona solennità di Pentecoste a tutti.